Panoramica del front office, home page. Io ho già avviato il mio web server, ma anche in questo caso. Ogni volta che dovete lavorare sul vostro shopping locale ricordatevi di avviare il web server, altrimenti non funzionerà. Quindi partiamo dall'home page, questo è il nuovo template per la versione 1.7.3. Abbiamo una parte alta composta da dei link di navigazione, sia a sinistra che a destra, il modulo del carrello, abbiamo il logo del nostro negozio impostabile da back office, il modulo del menu, il modulo del blocco di ricerca. Questa parte qui, tutta questa parte qui, è leader comune a tutte le pagine. Poi, nell'home page abbiamo uno slider a larghezza, diciamo boxed, larghezza quindi del template, un full width ma sempre nel layout massimo. Poi abbiamo un elenco di prodotti, sono dei prodotti demo installati da PrestaShop che noi possiamo tranquillamente cancellare successivamente. Abbiamo un banner impostabile da back office, ovviamente, del testo che possiamo modificare in back office. Poi abbiamo la parte del footer con il modulo del blocco newsletter e dei link in basso con alcune pagine del nostro shop, delle pagine di informazioni, la mappa del sito, i negozi, contattaci, delle pagine per la nostra area utente. Informazioni del negozio, adesso non c'è quasi nulla perché non le abbiamo riempite ma poi vedremo come customizzarle. E poi la firma di PrestaShop in basso a tutto che possiamo eliminare solo cancellandola dai file sorgente. Vedremo anche quello successivamente. Quindi è un'home page molto semplice, molto sobria, rivisitata tantissimo dalla 1.6 orientata alla semplicità. Tutto quello che vedete qui è comunque customizzabile, possiamo scegliere un modulo per far uscire dei prodotti particolari, le slide sono customizzabili, possiamo cambiare un po' tutto. Questa è l'home page di PrestaShop.